Mesi fa avevamo annunciato che all'interno di questo spazio sarebbe stato installato un progetto tecnologico. Ecco, ora alle mie spalle i lavori sono già partiti, Enel X metterà a disposizione tre panchine super accessoriate che appunto verranno installate in questo spazio, tutte e tre previste di una presa USB e una presa civile. Saranno dotate anche di due rastrelliere con due prese elettriche per bici. Oltre questo, una avrà proprio un defibrillatore e la connessione wifi. Ecco che questo luogo arriva ad essere in connessione con quella che è la tecnologia. Parliamo di un luogo straordinario che inevitabilmente questo polo lo vuole videosorvegliato, tanto che Enel ha messo a disposizione anche due telecamere che sono connesse poi con tutto quello che è la rete del corpo della polizia locale che noi abbiamo naturalmente e presidia tutte le telecamere installate nella città. È molto importante che tutti noi lo salvaguardiamo. Non solo questo sarà uno spazio intelligente, ma un domani diventerà anche il Giardino delle Meraviglie, proprio perché allacciato a questo c'è un progetto del Consiglio dei Bambini che hanno lavorato per riqualificarlo al meglio. La realizzazione, anzi il termine lavori, diciamo, sarà entro fine mese, quindi la prossima settimana ci sarà l'installazione delle panchine, l'allaccio delle telecamere. Ecco, diciamo, dobbiamo attendere pochi giorni per poi sederci connesse a tutti gli effetti. Grazie. Grazie.